Amici Trebi Meteo, bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di lunedì. Che attenzione inizierà a vedere consolidarsi sull'Atlantico un'area di alta pressione e questa zona di alta pressione nei giorni successivi favorirà la discesa di aria fredda dalle alte latitudini verso il cuore del continente e poi anche verso l'Italia. In settimana rivaria più freddina sul nostro paese. Per questo vedi comunque ancora poco da segnalare anche se qualche nuvola si affaccia sulle regioni tirreniche, in parte anche sulle regioni settentrionali ma senza grandi conseguenze per il momento. Se controlliamo anche le precipitazioni davvero poco da segnalare, qualche gocciolina in giornata si presenterà proprio sulle regioni tirreniche ma precipitazioni deboli sporadiche, nulla di che. Quindi in definitiva ci attendono di discreto, anche se qualche nuvola come diciamo sarà presente sulle regioni tirreniche, anche poi a fine giornata sulle regioni di nord-est, lì si avvicina quell'area fredda di cui vi ho parlato, qualche goccia di pioggia in quest'area in giornata ma ancora una volta ripeto precipitazioni sporadiche di debole intensità e come temperature e valori nella norma per il momento ma già da martedì cominciamo a perdere qualche grado. Per i dettagli sulle vostre località consultate l'app gratuita di Trebi Meteo.